E ha prodato in Consiglio regionale il tema della sicurezza degli edifici scolastici. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto e ottenuto una seduta monotematica per fare il punto della situazione e soprattutto capire come la Regione stia affrontando il problema, seguire i lavori anche i rappresentanti del Comitato Scuole Sicure. La nostra posizione è quella ferma tre anni fa, che ci battiamo per la sicurezza dei bambini, unico il nostro scopo, della messa in sicurezza degli edifici, quelli che dovrebbero essere adeguati, di togliere i bambini da dove non sono sicuri, vedi via Agliezza, vedi via Verga e quant'altro, e di conseguenza cercare di, ripeto, avere un territorio molto più tranquillo per quanto riguarda i bambini, solo quello. Qual è la situazione ad Isernia per quanto riguarda le scuole? Allora, per quanto riguarda le scuole comunali, quest'anno per la prima volta siamo in sicurezza, c'è stata qualche difficoltà, però diciamo che siamo arrivati a mettere in sicurezza tutti i bambini delle scuole materna, primaria e medie. Per quanto riguarda le scuole superiori, invece, la situazione è ancora molto indietro. Abbiamo in particolare tre istituti che avrebbero bisogno di grande attenzione e di una soluzione immediata che non sia l'adeguamento, ma che siano nuove scuole, nuovi edifici. L'ultimo censimento che voi giustamente avete commentato, siamo la seconda regione d'Italia in termini di sicurezza, per cui credo che questo tema per noi è molto caro, soprattutto è caro per far stare tranquilli non soltanto i ragazzi, ma soprattutto le famiglie e tutto il mondo che gira intorno al comparto delle scuole, per cui credo che invece siamo in una situazione abbastanza normale. Non da ultimo, giusto per segnare qualche dato, è stato arrivato un ulteriore trasferimento di circa 16 milioni e oltre, che contiene 12 interventi già stabiliti, riguardano tutte e due le province, provincia di Sernia e provincia di Campobasso, particolar modo in provincia di Sernia, ci sono cospicui finanziamenti di questi 16 milioni, così anche per quanto riguarda a seguito del terremoto il Ministro sta fatto uno stralcio per le tre scuole che necessitavano e necessitano di interventi, per cui io credo che stiamo lavorando molto, con molta insistenza, con determinazione, perché il tema della sicurezza delle scuole per noi è prioritario. Una considerazione sulla scuola di Agnone, che tanto si parla, anche su quello noi abbiamo assicurato il nostro intervento in considerazione, purtroppo, di alcuni fondi che sono nell'avanzo d'amministrazione, quindi come avanzo d'amministrazione non ci viene liberato quella quota di avanzo, non possono essere ripescati per riassegnarli di nuovo al Comune. Ecco, intanto ricordiamo che il Sindaco di Campobasso, proprio qualche giorno fa, ha ricordato che nel corso del suo mandato ha chiuso 20 scuole. Il Sindaco di Campobasso è stato già sollecitato da me personalmente e dal Presidente Toma in almeno due occasioni. Il Sindaco di Campobasso ha 11 milioni che rischiano di non essere spesi perché manca il progetto definitivo per il polo scolastico. Noi non possiamo fare altro che salvaguardare che non perdiamo i fondi, però credo che la celerità adesso in mano al Comune di Campobasso, il Sindaco deve sapere che deve rispettare dei tempi oltre i quali non è possibile andare.